Ciao a tutti, di nuovo qui, per l'ultimo giorno del nostro laboratorio dal basso, aspetta? Dovrebbe essere acceso. Un laboratorio dal basso silente. Un laboratorio dal basso silente, mimico. Per l'ultimo giorno di startup sociale, per il modo di startup incubazione. Oggi stiamo con Matteo Boccia, sempre di Makecube, Milano. Dopo aver visto un po' di lavoro, di approfondimento e destrutturazione dell'idea progettuale, oggi vedremo un po' più nel dettaglio i processi di incubazione e le tecniche di validazione di quel modello, per vedere come fare poi a seguire il processo di avviamento vero e proprio della nostra impresa sociale. Non rubiamo altro tempo perché siamo già un po' in ritardo. Solo per quelli da casa, potete seguirci, oltre che in streaming ovviamente, sulla pagina Facebook di Sintesi ci sarà il live posting, il fotoracconto anche dell'evento. E nel caso in cui aveste delle domande da fare a Matteo, potete postarle e cercheremo di rispondere in tempo reale, come abbiamo fatto ieri con Cristian. Lascio la parola a Matteo e grazie a tutti. Grazie mille Bruno. Mi aggancio a quanto diceva Bruno, la validazione. Quando si vuole lanciare una startup, ed in particolar modo quando si vuole fare startup nel mondo sociale, non è che esista una ricetta magica, i percorsi sono molto tortuosi e sono diversi. Quindi quello che proveremo a fare oggi insieme non sono quello di provare a dare delle soluzioni, ma sostanzialmente farvi vedere quali sono metodologie, tecniche, strumenti che utilizziamo per sottoporre al fuoco di fila, come lo chiamiamo, i progetti, soprattutto quelli molto in fase iniziale, che ci vengono sottoposti. Quindi ahimè sono qui per farvi delle domande e porre l'accento su dei problemi piuttosto che per darvi delle soluzioni. Però questo è quello che sostanzialmente in un processo di incubazione si fa. Mozione d'ordine, sono qui appunto quindi per fare in modo che ci sia uno scambio quanto più orizzontale possibile tra di noi, in modo tale da declinare subito queste metodologie che fanno parte del mio lavoro quotidiano con voi. E quindi fermatemi, fate domande, interrompetemi. Poi faccio me a colpa già in anticipo su due aspetti in particolare. Uno che in maniera anche un po' inutile mi viene da dire, però in questo mondo i tecnicismi sono per la maggior parte inglesismi. Mi scapperanno, mi scuso già in anticipo, ma se c'è qualcosa che non fosse chiaro, fermatevi. Quindi cerchiamo di declinare quel particolare concetto tecnico nel caso in cui non fosse nelle vostre corde in altro modo. Cerchiamo appunto di approfondire e di spiegare. E poi, come magari avete già notato, tendo ad avere una frequenza di parole al minuto che è abbastanza intensa e superiore alla media. Quindi anche qui cercherò di fermarmi, ma a maggior ragione, di solito quando mi si ferma, parlate voi, io abbasso la frequenza e quindi risulta più facile per voi poter interagire. Ok. Siccome appunto mi piacerebbe un'interazione quanto più orizzontale possibile, mi piacerebbe appunto conoscervi un po'. E quindi per adesso non mi interessa parlare di vostri progetti, perché ci parleremo per tutta la giornata, però alla luce anche delle cose che avete già visto in questo percorso fino ad ora, capire nome e cognome, di cosa vi occupate, ma non necessariamente professionalmente, di cosa vi piacerebbe occuparvi, cioè quali sono le cose che vi appassionano, soprattutto ovviamente nel settore sociale e già che, visto che avete cominciato a parlare di social business, ovvero di come un'attività di impatto possa anche essere strutturata in modo da poter avere un suo modello di sostenibilità indogeno, se avete incontrato in questo percorso in altri dei casi di social business che vi sembrano particolarmente rilevanti o interessanti. Oggi spero di poterne affrontare qualcuno e magari durante la trattazione di parlare di qualche caso. Chi è che vuole cominciare? Bruno? Vuoi rompere il tuo viaggio? Ah, io so perché c'ho il microfono in mano. Bruno Mola, le cose che mi appassionano sono varie, fondamentalmente fare quante più cose possibili e le relazioni umane e mettere in relazione le persone intorno a me fondamentalmente, più oltre ovviamente la musica e il divertimento della cucina. Avevi fatto la premessa che erano tante le cose che ti appassionano? Erano tante e tutto il resto. Prendo buona quella delle relazioni perché mi... Oltre è buona. Il social business secondo me è fondamentalmente un approccio, l'adattamento e l'approccio imprenditoriale, quindi molto attento all'efficienza e all'efficacia nel mondo del sociale, quindi dell'azione sociale in generale, quindi l'utilizzo di metodo imprenditoriale per massimizzare l'impatto sociale delle azioni di organizzazioni, gruppi o singole persone. Una best practice rispetto a questa cosa? Due esempi di organizzazioni di valore sociale? Anche uno, ero particolarmente esigente quando ho messo giù questa domanda. Va bene, per esempio, una eco-festa di cui abbiamo parlato ieri, quindi non so se conosci, è un'associazione che ha un progetto di rendere sostenibili gli eventi, i grandi eventi, soprattutto sagre, concerti ed eventi culturali in generale che avvengono qui, attraverso la vendita di servizi di gestione di smaltimento dei ricchiuti. Un altro esempio è organizzazione di valore sociale, ancora una volta made in carcere, che abbiamo parlato ieri. Ok, grazie. Sono Rosanna Cosmai e le cose che mi appassionano principalmente sono lavorare nel sociale con i minori, tutte le forme di disagio che si possono trovare. Per me il social business, secondo me, è rendere un attimo sostenibile il lavoro sociale, perché spesso si vorrebbe lavorare nel sociale, però si molla un po' perché non si può vivere di volontariato. Due esempi di valore sociale, mi ripeto, per me è alteramente che si occupa di integrazione scolastica dei bambini rom. Anche, sì, mi ripeto, Bruno, che ho seguito da vicino l'ecofesta, diciamo, noi sono sociale dell'ufficio di Cantermo, molto spesso loro vengono qui per rendere, diciamo, sostenibile per quanto riguarda i rifiuti, la differenzazione dei rifiuti, questo. Ok, grazie. Alessandro Vergari, cosa mi appassiona? Mi appassiona il lavoro a livello di comunità variamente inteso, quindi in particolar modo declinato sul settore educativo e dello sviluppo culturale delle comunità. Cosa è il social business? È un modo di lavorare sul territorio per valorizzare quelle che sono delle potenzialità inespresse, tentando di far fruttare il lavoro in chiave, diciamo, comunitaria, facendo ricadere i profitti su un'intera comunità e i valori anche su un'intera comunità. Esempi di organizzazioni a valore sociale, uno antico e lontano nel tempo, ma per me è sempre stato un punto di riferimento valoriale, che è Olivetti. E invece un esempio più moderno, mi venivano in mente per esempio le varie fondazioni che in molti casi finanziano progetti di valore sociale, dalla fondazione Cariplo per esempio e altre che comunque lavorano su questi progetti tentando di impattare sul territorio. Io sono Luigi Polonio, le cose che mi appassionano, diciamo tutte quelle tematiche che lavorano sul campo del sostegno al reddito e dell'economia di comunità. Io faccio un dottorato in sociologia e mi occupo di sociologia del lavoro fondamentalmente, quindi la mia tematica principale è proprio quella dello studio della disoccupazione, soprattutto quella giovanile e di, diciamo, possibilità di intervento. Hai parecchio da lavorare in questo periodo, soprattutto in Italia. Tantissimo. Infatti non faccio ricerca quantitativa apposta, altrimenti con i numeri non me ne uscirei vivo. E anche, diciamo, il discorso per esempio che ho iniziato a trattare ultimamente, così, per i miei interessi personali, delle monete locali come appunto forme di sostegno al reddito e sviluppo di piccole comunità. Stai spiegando il caso Sardex? L'hai guardato? Sardex, il bus, sì, varie esperienze. Quale è un caso molto interessante, anche perché quando parli di social business, vabbè, facciamo un'occhiosa finale, dai. Esatto. Le due organizzazioni a parole sociale, direi eco-festa anche io, visto che ci lavoro, ma non lo dico, anche se ormai l'ho detto. Facciamo solo casi non italiani, così. Una è Salome, che è un'aolus che si occupa di cura e prevenzione di disturbi alimentari, va a lavorare soprattutto nelle scuole per educare anche i ragazzi stessi a modelli e valori culturali per la prevenzione di malattie di disturbi alimentari. E l'altra è il formicaio, che è un'organizzazione che si occupa, cioè un'associazione locale, che si occupa, cioè messo in piedi sia il bazar del dono, cioè appunto il meccanismo di scambio di beni materiali, vestiti e quant'altro, appunto come forma di sostegno al reddito per chi non può permettersi. Di acquistare vestiti e poi fa anche diverse attività, anche di formazione su tematiche ambientali e anche economiche, come sempre quello delle monete locali. Grazie. Sono Roberto Greco. Mi appassiona tutto ciò che può riguardare la possibilità di stare insieme, nel senso io organizzo eventi tramite un'associazione che è Barrio Vecchio, però insieme a questa possibilità ho avuto appunto l'opportunità di collaborare con tante altre realtà, come per esempio, passo già a uno degli esempi che è l'Emerite 49, con cui collaboro, che organizzo le green, sono un festival, tutto un festival basato sul green. E un altro esempio potrebbe essere, non so se è un'organizzazione però, è la riqualificazione di Via Padova a Milano, anche io l'ho conosciuta grazie comunque alla possibilità di viverla indirettamente tramite la mia compagna che è di là. E cos'è il social business? Non so dare una risposta veritiera, certa, quindi preferisco magari farmi un'idea successivamente. E se è quello che si è avvicinato di più alla definizione di social business, tra l'altro. Grazie. Sono Silvia Recchia, le cose che mi appassionano di più sono l'arte contemporanea, soprattutto mi appassiona spiegare a chi non la conosce. Secondo me, per capire l'arte contemporanea non c'è bisogno di essere dei critici d'arte, per questo l'arte contemporanea può servire ad avere un pensiero più elastico, non aver paura del proprio pensiero. E in questo senso penso all'arte come, insegnare l'arte come un fatto sociale. Conosci Mostrami? Mostrami. Mostrami. Dopo ne parliamo, perché sembra di sentire il parale Sandro uguale. Vai. Social business, secondo me, da quello che ho capito in questi giorni, è un'impresa, una tipologia di impresa che ha come scopo quello di avere un impatto sulla società, di cambiare in qualche modo la società. Come esempio di organizzazione a valore sociale mi viene in mente Selene Bisti, di cui abbiamo parlato ieri, che si occupa di learning attraverso il web. Ok, grazie. Lauretana Greco, quello che mi appassiona sono i numeri, quindi quanti sono un gestionale. I numeri? I numeri. Interessante. Oltre che a tutto quanto il resto, che possa essere musica, latinoamericano, quello che ne comporta la vita in mezzo alla gente. Il sociale fino ad ora non è stato il mio interesse. Mi sono buttata grazie al laboratorio. Vedo che comunque sia una cosa molto interessante. Cos'è? Non ho capito. Io vedo i numeri purtroppo, deformazione professionale probabilmente. Quindi se dovessi dare una definizione la darei a livello di business, non di social. Sarai una figura con... veramente tutti vorranno cominciare a lavorare con te, perché di solito quella che è la mia esperienza, il terzo settore italiano ha grandissime potenzialità, ma ha un'esigenza di professionalizzazione rispetto alla gestione manageriale, controllo di gestione, chiamiamolo così, molto importante. Quindi secondo me se metti nome e cognome e numero di telefono sarei bombardata. Infatti sarei anche alla ricerca, però vediamo un attimino che cosa succede. Cosa ne esce? Parliamo. Laboratori dal basso. Si creano scambi orizzontali. Esempi non ne ho perché sono già stati bene o male già detti, quindi... Però tu onestamente hai detto, io la sociale mi ci avvicino adesso, quindi sono in cerca di... Sono una neofila. Perfetto. Grazie. Buongiorno, io sono Luca Brindisino. La cosa che mi appassiona di più è l'aggregazione delle persone intorno a dei punti in comune, come possono essere lo sport, la musica. Il social business per me, fino a un paio di anni fa, era la dimostrazione di un malfunzionamento generale del sistema di welfare nello Stato. Cioè era la dimostrazione che tutto ciò che avrebbe dovuto fare lo Stato e non si faceva quindi emergevano determinate esigenze. Per fortuna col tempo ho modificato questo punto di vista, mi sono anche riappropriato un po' della definizione di Stato e mi sono detto che probabilmente lo Stato siamo anche noi e che attraverso questa spinta dal basso possiamo colmare noi determinate lacune che altrimenti potremmo aspettare generazioni prima di veder esaudite. Quindi mi piace anche pensare che fare social business può essere una spinta anche lavorativa per la vita. Due esempi di organizzazione che farei sono a parte quelli già citati finora Meticcia che è un'associazione che si occupa appunto di creare interazione tra le varie comunità migranti presenti in provincia di Lecce, a Lecce in provincia e un'altra che mi viene in mente è Viaggi Responsabili Etiopia che è un'agenzia di viaggi che si occupa di organizzare appunto dei viaggi nel centro Africa attraverso però dei contatti che sono stati stabiliti fuori dai circuiti ufficiali grazie agli anni di residenza di questi ragazzi in Etiopia, hanno sviluppato questi contatti e ora organizzano questi viaggi per distribuire un po' del reddito turistico fuori dai circuiti ufficiali. Buongiorno io sono Antonella della Torre, mi appassiona grazie al cielo il lavoro che faccio cioè mi occupo di comunicazione da diverso tempo ormai ma ultimamente mi appassiona il nuovo modo in cui mi approccio al mio lavoro cioè praticando quelle che sono quella che è l'ispirazione dell'innovazione sociale unita all'economia collaborativa e in particolare praticando il co-working quindi da più di un anno sono una co-worker in contesti già organizzati tipo a Bari o in altre reti ma cerco di coniugare questa passione con quella per la pedagogia dell'infanzia, due anime un po' difficili da coniugare spesso però è un po' il mio obiettivo che rientra poi anche in quella che è la mia idea di social business che ultimamente ho maturato in questa definizione cioè social business tutto ciò che rientra in un circuito economico ma non spinto dalle leggi dell'utilitarismo ma dell'utile dove è utile il bene della comunità quindi non dimenticare l'aspetto economico delle azioni che si compiono quindi il ritorno economico e le azioni che si compiono senza però dimenticare l'aspetto sociale individuato nell'utile quindi nel bene della comunità sulla quale impattano. Per quanto riguarda invece esempi di organizzazioni a me vengono in mente due esempi molto locali che sono l'ex di San Vito dei Normanni e cioè chiamiamolo un contenitore può essere un po' svilente come termine però in realtà è molto generico quindi riesce un po' ad abbracciare tutte le differenti attività che si svolgono in questo spazio uno spazio recuperato nel quale si svolgono convivono applicando anche un metodo un modello di business abbastanza particolare però è inutile scendere qui nel dettaglio comunque convivono realtà differenti che attività della comunità quindi giovani che si occupano di fotografia di danza di cucina e un appunto è un contenitore molto molto eterogeneo e dall'altra casa natural che è un'associazione di Matera che si occupa appunto di innovazione sociale con un particolare risvolto rurale dove rurale ovviamente possiamo immaginare che Matera non ha dei campi da coltivare però con un occhio alla ruralità molto particolare quindi per me possono essere due emblemi di valore sociale molto evidenti e importanti per il nostro sud soprattutto Hai fatto le camminate a Matera? Sei andata a camminare a Matera? Bene, grazie a me non vado da te però conosco bene insomma la realtà di Canalizzata la realtà di Marietta che ho incontrato e mi diceva che va ad andare con i quali quindi stavamo fatto particolare Buongiorno, io sono Fabrizio Chetri sono appassionato del comparto agroalimentare e del settore musicale per quanto riguarda social business mi viene in mente come definizione la possibilità di creare profitto generando al contempo un benessere per il tessuto sociale della comunità e come esempi penso a due realtà diciamo del comparto in cui opero quindi che si chiamano Tracce Verdi e il Trullo Sociale che sono un APS e una cooperativa che diciamo si occupano di reinserimento diciamo socio-lavorativo di soggetti svantaggiati in particolare con disabilità psichica attraverso l'ausilio di pratiche agricole Molto interessante Ciao a tutti, sono Daniele De Giorgi sono affascinato dalla natura e dalla spontaneità del cambiamento che avviene in natura il social business è probabilmente uno strumento che favorisce l'economia sociale non faccio due esempi di organizzazioni, ne faccio cinque sintesi, senza spiegare sintesi, alteramente, land to land ZEI, siamo a? 4 e lenticchia appena arrivata, brucia pelo nome e cognome, cosa ti appassiona? hai una definizione tua di social business se ti viene in mente qualche esempio di un'organizzazione che coniuga quel paradigma ok, ciao, sono Lili Someo cosa mi appassiona? osservare le varie relazioni sociali sicuramente le tipologie di avvicinamento di stare insieme, lavorare insieme motivo per cui secondo me il social business è una nuova forma di business puntata più su una questione di relazioni e di possibilità di lavorare insieme con un obiettivo che punti più su un benessere sociale non esclusivamente un benessere economico due esempi di organizzazioni in realtà anche a me vengono in mente sia sintesi, che mi piace moltissimo il lavoro che fanno e gli obiettivi che hanno e poi alteramente anche io perché sono delle ragazze con le quali collaboro e posso vedere di persona il tipo di lavoro che fanno e quello che ci mettono all'interno di loro stesse ok, grazie mille sono emerso delle cose comuni, abbastanza interessanti paradossalmente la domanda cosa è secondo te il social business perché non c'è una vera definizione di social business come tutti i fenomeni socioeconomici complessi è difficile incasellare l'interno di una definizione quindi provo a portarvi quello che nella mia esperienza e secondo la mia visione appunto può essere definito social business tiene insieme appunto queste due parole sono due anime e due cose che sono emerse in numerose delle definizioni che avete dato ovvero un'organizzazione che prova a coniugare il buono che c'è di quello che in Italia viene definito no profit e di quello che invece è il settore profit cioè da un lato il portato è la spinta valoriale genuina verso il conseguimento di un obiettivo alto che non sia semplicemente quello di creare qualcosa di mio di risolvere un problema e di farci un'impresa di successo non è quello che mi muove è individuare un problema molto spesso su un territorio ben preciso ben circoscritto quello che vivi e quindi voler essere utile in quel contesto quindi risolvendo un problema sociale che vivi in prima persona quindi avendo un impatto sulla realtà territoriale ma allo stesso tempo facendolo con un approccio che viene invece quello che deriva dal mondo profit cioè avendo molta attenzione al fatto che ci deve essere un equilibrio ci deve essere una sostenibilità economica e ci deve essere soprattutto un modello di business cioè un modello che consenta di avere almeno ricavi pari ai costi cioè avere una copertura endogena dei costi e anzi avere la possibilità ed è questa la cosa che trovo interessante di avere una profittabilità anche interessante che però non vada a detrimento dell'obiettivo perché appunto l'oggetto sociale non è fare profitti ma è conseguire un obiettivo di natura sociale quindi il profitto è strumentale a quell'obiettivo non è l'obiettivo ultimo, è finale e perché è interessante? perché così facendo non solo ti affranchi da uno schema è venuto prima fuori una definizione di fallimento del welfare statale in qualche modo questo è vero nel senso che comunque c'è una crisi non solo di progettazione e di identità dello Stato nel rispondere a determinati bisogni che non legge più, non intercetta più anche perché vive una dimensione che probabilmente non è quella che viviamo tutti noi oggi ma c'è anche un problema non banale di sostenibilità economica dello Stato stesso cioè di contrazione cospicua della possibilità economica degli attori che tradizionalmente hanno fatto fronte alle pressioni di natura sociale che venivano dal basso di poter continuare a farlo quindi il profitto è strumentale proprio a affrancarsi da questo schema dal fatto di essere sempre costantemente dipendente da fonti di finanziamento terze, esterne quindi incerte e soprattutto onerose, costose da approvvigionare perché? Perché nella vostra esperienza lo sapete sicuramente meglio di me quanto tempo vi occorre per preparare un progetto scrivere un progetto, presentarlo tutti gli approfondimenti, la documentazione che l'ente che bandisce il bando appunto vi chiede nel caso in cui malauguratamente, non scherzo lo vincete, tutta l'indicontazione cioè quello sono tutti tempi e risorse umane preziose capitale umano e know-how prezioso che viene sprecato per un'attività che in realtà non è il vostro core cioè il vostro core è quello di avere un impatto diretto sulla vita delle persone quello è quello che vi motiva quello che vi fa alzare la mattina e mi dice ok, io ho la mia attività che sia un'associazione, che sia un'impresa non importa la forma perché ho quell'obiettivo lì tutto quello che non è funzionale a quell'obiettivo e non è quello che mi fa vibrare il cuore è uno sperco di tempo e quindi se io con quell'attività di caratteristica riesco a trovare un sistema che permetta di avere una anche moderata profittabilità io mi affranco da questa dipendenza da terzi e posso anzi reinvestire quei profitti all'interno dello sviluppo dell'attività di quell'organizzazione con l'idea che quindi da un lato non sono più dipendente da dovermi andare a cercare fondi e soprattutto posso in maniera assolutamente corrente con il mio oggetto sociale aumentare progressivamente come appunto un'onda che si propaga quando lanciate un sasso all'interno di una pozza d'acqua il bacino di persone che possono beneficiare del mio intervento perché e qua c'è il tema appunto della replicabilità e scalabilità si parla sempre di scalabilità nel mondo delle start up quelle imprese che devono crescere nel giro di un anno diventare necessariamente globali declinato in questo paradigma nel social business la scalabilità è altrettanto importante non per diventare il nuovo Facebook non è assolutamente quello il fine non è quello l'obiettivo ma essere in grado di riuscire posto che si è trovata una ricetta magica per dare risposta ad un miso sociale riuscire a moltiplicare l'impatto che con quella ricetta si riesce ad avere su un territorio progressivamente più esteso e quindi è per questo che coniugare questi due approcci è interessante per riuscire a continuare non tradire la propria mission sociale ma farla in maniera contemporanea in maniera che liberi rispetto al paradigma tradizionale non sto dicendo che quel paradigma va buttato via assolutamente no perché fa tutt'oggi una gran parte della risposta alternativa o comunque del welfare del nostro paese ma bisogna trovare nuovi modi per operare in questo settore ed in realtà nuovi modi in giro per il mondo stanno nascendo voi avete portato una serie di testimonianze io i miei esempi non ve li faccio perché ve li faccio nel corso della giornata vedendo una serie di casi di come questa doppia anima quella della tensione verso il sociale e dei numeri siano riusciti a convivere a creare dei connubi sostenibili, replicabili con una sostenibilità economica interna ma non da meno dei progetti da una valenza sociale incredibile quindi diciamo che ieri con Christian e con i miei colleghi avete visto sostanzialmente una carrellata di quello che sono alcuni elementi fondamentali di questo ecosistema cioè dell'ecosistema delle idee innovative che nascono crescono e si strutturano in un'organizzazione che indipendentemente dalla forma giuridica adesso questo non ci interessa operano su un territorio in maniera stabile e appunto sostenibile quindi non c'è più tornando all'efficienza di social business l'idea che il business è un conto e poi con il give back faccio il social ma al contrario ho impatto sociale che è dentro la mia attività di business è caratteristica della mia attività di business la mia attività di business è fare impatto sociale quindi in questo senso la sostenibilità economica è un vincolo necessario affinché io possa stare in piedi e avere un impatto sulla vita delle persone quindi nella filiera di questo ecosistema di quello che è necessario per far crescere sviluppare e rendere sostenibili e replicabili questi modelli di innovazione che vengono dal basso sostanzialmente avete visto principalmente due ingredienti avete visto avete fatto una panoramica su quello che è il framework e come dire il contesto in cui si sviluppano delle pratiche di innovazione sociale che possono poi diventare un modello che si struttura in un'organizzazione che può essere un'impresa e trovare quindi un suo modello di sostenibilità oppure delle pratiche che rimangono delle pratiche dal basso che non si strutturano ma che sono comunque innovazione sociale e poi avete visto anche diciamo avete cominciato a parlare un po' di processi di accelerazione incubazione di questi soggetti che sono non solo incubatori acceleratori ma anche spazi di co-working o nella sezione più varia possibile spazi di incontro di sinergia di messa in rete tramite le quali queste idee possono appunto dialogare tra di loro e trovare un partenariato che possa essere in grado di portare avanti e di strutturare un progetto ad impatto sociale quindi sostanzialmente volendo utilizzare un po' la metafora della pianta vedere l'ecosistema dello sviluppo delle pratiche di innovazione e della strutturazione delle pratiche di innovazione sociale in organizzazioni diciamo che avete parlato un po' dei semi quindi sostanzialmente delle imprese quelle che mi piace definire imprese a finalità sociale perché è la definizione che secondo me coniuga questi due aspetti di cui ho parlato cioè la genuinità del modello di gestione quindi la pulizia dei numeri e l'equilibrio economico e l'assoluto obiettivo di generare un impatto poi appunto parlando di spazi di incontro incubatori acceleratori sostanzialmente proseguendo nel corso di quella metafora sono appunto la terra che accoglie questi semi e prova a farli germogliare cercando appunto di costruire relazioni di sopperire a mancanza di competenze e questo è fortissimo soprattutto rispetto alle competenze manageriali ma anche di business development questa brutta parola che significa sostanzialmente posto che puoi fare una quantità di attività pazzesche perché come Bruno ma molti di voi sono moltissime le cose che nella vita ci appassionano cerca di capire cosa sai fare davvero bene e su quello prova a costruire un modello di successo e quindi appunto questi abilitatori di relazioni di competenze e anche di accelerazione del processo di crescita di un'organizzazione con l'idea appunto che la crescita non è funzionale a se stessa non è funzionale a diventare un soggetto che fa i soldi è funzionale appunto ad amplificare l'impatto e la capacità di incidere su un suo strato economico e sociale ed infine quello che è mancato un po' fino ad ora e dalla quale invece mi piacerebbe partire per la cascata ritornare sulle due dimensioni cioè quello della sostenibilità del modello di business e quello invece della capacità di avere un modello di impatto è la linfa la linfa i nutrienti cioè i capitali non ci nascondiamo bello se le cose si fanno però di volontariato non si può campare un'organizzazione comunque per quanto piccola ha dei costi di gestione deve poter investire sul suo futuro perché delle cose vanno fatte appunto di investimento per creare rete per farsi conoscere su un territorio per provare a fare uno scambio internazionale di best practice e entrare in contatto con dei soggetti che possono darti un modo diverso di vedere di approcciare un problema quindi sostanzialmente anche queste idee così come le imprese normali che le imprese tradizionali scusatemi che vogliono crescere diventare mondiali per fare i profitti hanno bisogno di grosse quantità di capitale per poter raggiungere questo mercato globale allo stesso tempo anche le organizzazioni che hanno come obiettivo non i profitti ma l'avere impatto sulla vita delle persone ha bisogno di finanza per potersi strutturare crescere e agire su un territorio questa sostanzialmente a questo punto è la classica slide che si fa vedere quando si parla di filiera del sostegno delle imprese in cui abbiamo gli acceleratori i classici incubatori quelli più famosi in Italia abbiamo i fondi di venture capital e quindi si parte dall'idea che è ancora da strutturare poi si sviluppa una prima soluzione un primo prototipo del prodotto del servizio e poi si trova tra virgolette quella che viene chiamata la macchina della crescita il motore della crescita poi da lì si cresce perfetto noi tendenzialmente ci collocheremmo qua ma in realtà questo è appunto la filiera di quello che è tendenzialmente il mondo for profit cioè l'idea di trovare delle imprese che possano diventare solide crescere e scalare qua vedo un nome però che tra l'altro di pixel dovrebbe essere collocato più diciamo nella fase più seed che è interessante perché mi fa tornare in mente il caso di Sardex di cui abbiamo parlato quello è un caso molto interessante perché è un'impresa che contemporaneamente può scalare perché ci ha messo i soldi un fondo che raccoglie capitali di terzi e quindi deve far fruttare quei capitali cioè ha un obbligo giuridico nei confronti di chi ha conferito il mandato di investimento di fare profitti cioè è quello il contratto che lega la relazione ma li ha investiti in una pratica sociale dal basso veramente dirompente conoscete il modello Sardex? ok non evitare i topic che lo faccio spiegare a te perché lo conosci meglio di me sostanzialmente no? meglio vai vai microfono microfono stiamo in laboratori dal basso quindi dai meglio 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 è una fortuna di avere un sociologo quindi adesso ci molto era veramente una fortuna nel mondo di avere i sociologi infatti lei ride perché anche lì è sociologa quindi siamo in compagnia il modello Sardex è un modello di moneta locale però non è una moneta vera e propria come si può intendere un pezzo di carta o una tecca dello Stato ma è partita basandosi sullo scambio più che altro di prestazioni fra attività commerciali varie almeno il punto di partenza era quello come moneta locale cioè basato su lo scambio appunto di prestazioni tra faccio un esempio per essere un po' più chiaro un meccanico e un gommista semplice entrambi appunto tramite il circuito Sardex al quale comunque diciamo si affiliano i vari esercenti fra di loro scambiano le prestazioni pagando una quota non sbaglio fino al 50% del valore della prestazione in perché non credo che possa essere fatto in totale no perché poi una delle critiche che viene mostro al sistema è il fatto che della fiscalità esatto in realtà chi gestisce il sistema lo studiato molto bene quindi dice consiglio alle imprese di operare per l'80% all'interno del sistema Sardex per il 20% all'interno del sistema monetario perché poi deve avere una certa quantità di circolante di cassa cioè di soldi di soldi di soldi di carta moneta che comunque che ti permetta appunto di ottemperare tutti i tuoi obblighi nei confronti del versamento dell'iva del pagare le tasse eccetera eccetera esatto e in questo circuito appunto queste prestazioni scambiate nella parte che riguarda il Sardex cioè fino all'80% l'obiettivo per tutti gli esercenti è quello poi di arrivare fondamentalmente a bilancio zero cioè dove nessuno ci perde nessuno ci guadagna ma scambiano fondamentalmente la prestazione parlo sempre della parte del Sardex scambiano la loro prestazione fondamentalmente a costo zero perché loro non hanno si sostanzialmente quello che si è ritornato a quello che doveva essere che era il valore iniziale della moneta cioè la moneta è sostanzialmente un oggetto che misura il valore di beni e servizi all'interno di un sistema sociale quindi convenzionalmente si è deciso che 50 euro ha un determinato valore comunque 50 euro tu puoi comprare una determinata quantità di prodotti una determinata quantità di servizi nulla vieta però che ci siano altri unità di misura del valore e quindi di conseguenza facendola molto semplice perché il sistema in realtà è molto complesso quello che si fa è valutare quanto può a quante mele ho diritto con la mia prestazione da esperta di numeri di controllo di gestione quindi c'è un'unità diversa che sono appunto il Sardex che misura quanto vale la tua prestazione quanto costa un chilo di miele e quindi esprimiamo in quell'unità di misura nuova il valore che ci scambiamo questo cosa consente in un sistema in cui c'è credit crunch le piccole imprese ma anche quelle medie fanno fatica incredibile ad avere fondi che servono per ottemperare le spese quotidiane cioè anche quando c'è un'impresa che è economicamente sana va in sofferenza finanziaria nel senso che ci sono ritardi di pagamento dei tuoi clienti di conseguenza tu fai fatica a pagare i tuoi fornitori e c'è tutto un sistema che si abita su se stesso e rende stagnante l'economia di una parte della Sardegna ma in realtà non solo della Sardegna quindi l'idea qual è stata? perché non proviamo a trasformare un credito in realtà nella possibilità di poter comprare delle cose sostanzialmente e quindi in questo modo tu non hai bisogno di incassare quel credito perché io ho venduto a Bruno un servizio Bruno non riesce a pagarmi adesso dovrebbe pagarmi 30 giorni e mi dice no dai ti pago tra gli altri 30 no tra gli altri 30 nel momento in cui erogo la prestazione a Bruno il mio credito è già diventato valore che io posso rimettere nel sistema per comprare cose di cui ho bisogno quindi rende molto più dinamico e molto più fluido gli scambi e ha avuto un impatto occupazionale anche perché lì le imprese chiudevano morivano di liquidità strazzate di liquidità quindi l'impatto sociale di quel sistema in quel territorio è stato dirompente però ha anche la caratteristica di alcune delle start up che passano qua dentro c'è la scalabilità questo è un sistema che in realtà adesso è esportato nel Lazio in Emilia in Lombardia anche altri competitor stanno nascendo cioè ci si è resi conto che in questo particolare momento storico questo può essere un sistema che funziona e può essere un sistema che se tutti aderiamo perché poi è aperto non solo alle imprese ma anche alle persone fisiche può crescere in maniera vertiginosa i numeri possono crescere in maniera molto rapida nel senso io invece di andarmi a aprire un conto solo il conto in una banca di cui adesso non facciamo il nome qualunque contestualmente entro anche nel sistema Sardex che emula in qualche modo in maniera molto simile a quello che succede nei mercati bancari cioè nel senso quando io devo pagare Bruno perché Bruno mi ha fatto una prestazione c'è uno scambio nel senso di moneta elettronica dal mio conto al suo c'è una camera di compensazione per la quale al termine della giornata comunque di un periodo vengono saldate le varie partite cioè la mia banca e la sua banca devono avere una transazione ma allo stesso tempo ci saranno stati altri milioni di utenti della sua banca e della mia banca che hanno interagito e quindi alla fine della giornata si cerca di capire qual è il saldo positivo o negativo tra le due c'è una camera di compensazione molto simile anche nel circuito delle monete alternative quindi adesso senza andare nei tecnicismi perché non è quello che interessa però è interessante quel caso come una pratica di innovazione sociale e di impatto sociale dirompente può avere le capacità di scalare può anche essere profittevole e quei profitti cosa sta facendo con quei profitti? li sta investendo per andare in Lazio per andare in Calabria per andare in Toscana per entrare nella confederazione europea delle monete alternative perché propone un modello alternativo un modello economico sociale alternativo che ha la capacità appunto in questo particolare momento storico di avere impattare in maniera diretta sulla vita delle persone perché se non è questo impatto sulla vita delle persone mi chiedo cosa sia quindi non è questa la filiera ma in qualche modo in maniera incidentale ci può capitare tendenzialmente non è questa la filiera che vedrete voi o quantomeno per i progetti che sono emersi o come dire i casi che avete fatto emergere nella chiacchierata che abbiamo fatto prima probabilmente la filiera più corretta per quei tipi di progetti è questa cioè dove c'è un altro paradigma non è profit 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 scala 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 se in un mese non hai conquistato nuovi mercati non hai portato a casa almeno altri 10.000 utenti o metriche del genere vuol dire che il business non sta crescendo vuol dire che il sistema la ricetta che hai trovato il prodotto la proposta di valore che metti nel mercato non è apprezzata questo è un altro paradigma ILE3P planet people and profit cioè un sistema in cui come vedete lo spectrum è abbastanza ampio convivono soggetti che comunque non hanno un approccio puramente di massimizzazione del profitto ma ha una funzione obiettivo un pochino più complicata in quella funzione obiettivo comunque rientrano anche variabili che non sono strettamente monetare rientrano variabili che nell'acronimo inglese sono ESG Environment Social and Governance perché non è solo avere impatto sociale e impatto ambientale è anche come ad esempio un'organizzazione ha deciso di strutturare i suoi processi interni un modello di governo di gestione più democratico le decisioni prese non da un consiglio di amministrazione ma da un consiglio di amministrazione esteso con la partecipazione dei lavoratori o ad esempio introducendo delle dinamiche salariali che non siano troppo divergenti e sperequative in cui ad esempio il top management non può guadagnare più di 5 volte quello che guadagna l'ultimo stagista entrato anche quello è un modo diverso di proporre un modello di fare impresa quindi ci sono una serie di variabili abbastanza diverse tra di loro quindi appunto sfera ambientale sfera sociale ma anche sfera di come strutturi la tua impresa e in questo spectrum hai da un lato quello che avete parlato ad esempio di fondazione Cariplo o di tante altre fondazioni che ho parlato sul territorio italiano per sostenere ed è scritto nella loro mission l'innovazione sociale e l'inclusione sociale beh quelle sono nella parte sinistra impact only cioè a chi opera in questo modo posto che le fondazioni bancarie hanno due braccia hanno due braccia quello erogativo e quello invece di gestione del patrimonio ma quando lavorano col braccio sinistro cioè con quello delle erogazioni allora non interessa che ci sia un rendimento interessa che sia massimizzato un impatto su un determinato territorio tra l'altro e quindi quello che si fa si opera con quelle che sono le tradizionali no profit dell'associazionismo nel mondo anglosassone sono chiamate charities e quindi sostanzialmente hai o puro grant oppure un po' di grant che serve a sostenere delle iniziative che magari generano dei ricavi ma che da soli non sarebbero assolutamente in grado di stare in piedi quindi hai due tipologie di attività dall'altro lato invece hai sostanzialmente un tipo tradizionale di fare business e anche un tipo tradizionale di mercati finanziari ma che adottano approcci in particolare diciamo che lato della finanza cioè dell'offerta di capitali è quello che viene definito social responsible investment l'acronimo SRI cosa significa? Significa che ok io sono un investitore e comunque quindi a me interessa avere un determinato rendimento dai soldi che investo nell'attività che finanzio devono darmi un rendimento che deve anche essere monetario deve esserci un profitto ma nel come seleziono i soggetti che mi danno questo profitto utilizzo una serie di variabili che hanno a che fare con la sfera sociale ambientale e di governance le tre famose lettere questo significa che a parità di condizioni se io ho due alternative di investimento che almeno in termini attesi mi danno un rendimento come dire comparabile l'8% io seleziono quelle aziende che performano meglio da un punto di vista sociale e ambientale quindi si dotano di policy per la gestione dei rapporti col territorio hanno delle iniziative o delle partnership in piedi con delle associazioni che fanno anche delle attività a scopo sociale nella selezione dei fornitori ad esempio escludono fornitori che lavorano in paesi che hanno problemi con la tutela dei diritti umani c'è tutta una serie di variabili che provano a declinare la dimensione sociale della sostenibilità ambientale anche in un mondo che apparentemente ne avulsa cioè quello della finanza mainstream cioè dell'investimento finanziario puro poi hai uno spectrum intermedio che invece è fatto di una serie di soggetti che sono interessati all'impatto sotto il vincolo della profittabilità cioè lì era il contrario cioè io investo perché devo fare i profitti ma nel farlo mi doto di una serie di filtri per tenere in considerazione anche delle tematiche social-ambientali qui invece a me interessa moltissimo massimizzare il surplus sociale che viene creato ma ci deve essere la sostenibilità economica come criterio non derogabile e quindi si va a parlare di concetti legati a impact investing parola che adesso è tanto di moda qualcuno vuole abbozzare una definizione di impact quando si parla di impact investing di cosa stiamo parlando? letteralmente investimenti ad impatto ok l'oggetto appunto è quello di mutuare talvolta anche delle architetture finanziarie molto complesse perché poi qualche caso magari lo vediamo per riuscire a mobilitare risorse finanziarie private quindi di investitori privati non più dallo Stato verso segmenti e settori di attività che hanno come obiettivo quello di generare un impatto sulla società quindi anche in questo settore quello che conta come dicevamo prima sono appunto l'oggetto sociale qual è l'obiettivo della organizzazione che io sto finanziando poi deve anche avere una sostenibilità economica e deve comunque garantirmi dei rendimenti però quello che mi muove è l'impatto in realtà anche all'interno del mondo dell'impatto investing ci sono delle sfumature particolari chi è impact first cioè mi interessa principalmente l'impatto e poi solo in seconda istanza se c'è un rendimento ok chi invece ha un approccio un po' sbilanciato dall'altro lato cioè non derogo ad un rendimento minimo che mi interessa conseguire del 3-4% ma poi seleziono organizzazioni che hanno impatto quindi anche questo è un mondo abbastanza eterogeneo e diciamo parlando di impact investing casi che vi vengono in mente e soprattutto perché ne stiamo parlando beh ne stiamo parlando perché nero su bianco noi siamo in Italia siamo in Europa e nero su bianco nella programmazione 2014-2020 la commissione ha inserito praticamente in ogni documento di policy due parole magiche innovazione sociale è impact investing cioè l'innovazione sociale e il sostegno finanziario all'innovazione sociale viene ritenuta uno dei driver strategici per lo sviluppo della competitività del sistema sociale ed economico europeo da qui al 2020 quindi è stato messo nero su bianco ma in realtà non solo parole stanno venendo fuori anche i fatti questo è un overview del del documento prodotto dalla task force di esperti che sta lavorando sul tema appunto del social investment cioè degli investimenti per favorire tutto questo settore dell'economia sociale appunto come potete vedere si sta agendo sostanzialmente a tre livelli da un lato si sta cercando di favorire quelle realtà dell'economia sociale che appunto operano secondo i modelli che siamo detti prima cioè realtà del terzo settore o imprese che hanno come obiettivo non quello di fare profitti ma quello sostanzialmente di generare un impatto sociale dall'altro lato se voi vedete in basso lì a destra social impact investing market attualmente praticamente non esiste cioè è un mercato che si sta costruendo veramente in questi in questi anni è un mercato nascente e da qui a vent'anni direttamente indirettamente quindi col meccanismo del finanziamento diretto e col meccanismo del creare incentivi ai privati per investire in questo settore si vuole arrivare ad un mercato europeo che sfiora i 29 miliardi di euro cioè si è capito che sostanzialmente così come un fondo di venture capital può investire in una roba come Sardex creando impatto sociale e anche sostenibilità economica questo può essere un volano per tenere insieme la la crescita economica del vecchio continente e evitare che questa sia una crescita invertire il modello di crescita fare in modo che questa crescita possa essere una crescita orizzontale che non sia una crescita solo del quartile alto cioè di quelli che stanno già bene sostanzialmente e quindi che non si crei un divario ancora ulteriore rispetto alle classi sociali medie che non esistono più e invece i pochi benestanti quindi si sta agendo e questo perché non ci interessa perché si sta agendo per favorire la nascita ad esempio di fondi che sostengono iniziative come quelle che voi avete citato cioè che possano portare risorse finanziarie in social business cioè attività che vogliono trovare un loro modello un modello di sostenibilità ma che sono spinte dal dover fare impatto dal dover avere un impatto sociale sta finanziando incubatori e incubatori capitalizzati cosa vuol dire? vuol dire io non ti do solo più assistenza manageriale non ti faccio capacity building su tutto ciò che non è attività tua caratteristica di generare impatto quindi controllo di gestione avere una avere dei numeri che siano in piedi la capacità di poter ridire un bilancio tutta questa serie di cose che ci annoia tradibilmente ma che può fare no non è vero scusami è il tuo passatempo preferito ma che in realtà fa la differenza nella bontà di gestione nella capacità ad esempio di leggere i problemi quando stanno arrivando cioè capire che di qui a tre mesi io rischio di non avere un euro sul conto meglio capirlo oggi piuttosto che rendermene conto quando questo si verifica e quindi ad esempio sta la commissione europea sta non solo utilizzando la leva finanziaria ma anche alcune misure indirette quali ad esempio favorire organizzazioni cooperative ma indipendentemente da forma giuridica che fanno della creazione di impatto sociale il loro oggetto sociale e quindi ad esempio quando c'è un bando pubblico per una fornitura pubblica se un'organizzazione ha queste caratteristiche ha una premialità nella valutazione poi finale ovviamente poi viene fatta anche la valutazione tecnica e la valutazione dell'offerta economica ma viene dato un canale preferenziale nelle politiche di public procurement delle organizzazioni delle pubbliche amministrazioni per facilitare l'accesso anche di questi soggetti alle gare pubbliche alle gare di fornitura e poi vengono e sono state anche predisposte una serie di di azioni per favorire iniziativa privata che miri alla costituzione di ecosistemi incubatori e capitali a sostegno delle iniziative di social business cosa significa? che la commissione europea da un lato istituisce fondi di fondi che possono investire in questi strumenti e dall'altro paga un percorso di un anno per lo studio di fattibilità e la realizzazione concreta poi di modelli di questo genere noi in particolar modo ve lo posso un po' descrivere perché ci stiamo lavorando nel senso che abbiamo vinto uno di questi bandi e stiamo lavorando quindi adesso a trasformare MecaCube da puro incubatore che fa assistenza e al massimo lavorando con grandi imprese riesce anche a avere la possibilità di poter finanziare ex post cioè alla fine di un percorso quelle idee che si sono rivelate più interessanti o più in linea con quelle che sono le aspettative comunque dell'impresa committente invece invertire il percorso e dire ok è l'incubatore che con la sua capacità di leggere i bisogni sociali e quelle che sono le iniziative più interessanti su un territorio a finanziare all'inizio del percorso quindi a dare quei 20-30 mila euro che fanno davvero la differenza nelle primissime nelle primissime fasi della vita di un'impresa qualunque ma in particolar modo di un'impresa che vuole creare impatto sociale e quindi dare la possibilità a con un percorso ovviamente in buto perché nei finanzi 100 non tutte queste 100 avranno successo ma tra queste 100 probabilmente riesce a trovare una decina di campioni di impatto cioè una decina che trovano il modello trovano la ricetta magica e riescono a fare quello che Sardex ha fatto in Sardegna e sta esportando in tutta Italia quindi per questo che sono partito da questa appunto dalla finanza perché in realtà questo è un volano quello anche della finanza per stimolare la creatività e la dinamicità in alcuni territori buongiorno e questo è uno dei territori che mi avviso si sta rivelando molto dinamico da un punto di vista delle iniziative che dal basso stanno emergendo il bando che avete vinto con Makecube è un bando di microfinance non è strettamente microfinance ma è impact finance cioè c'è stata una colla europea per la quale appunto c'erano tre misure una era finanziare degli semplici studi di fattibilità cioè capire ingegnerizzare dei modelli modelli di business sto parlando che potessero funzionare e tenere insieme uno staff che deve lavorare che deve fare selezione di progetti che arrivano progetti di impresa sociale però non ex legge di social business mettiamola così altrimenti abbiamo il classico problema di linguaggio e di definizioni una che fosse il passo successivo cioè tu hai già fatto un pezzo dello studio di fattibilità hai raccolto delle lettere di interesse di soggetti privati che finanzierebbero con lo strumento determinate condizioni e poi alla parte finale quello del fondo di fondi cioè soldi pubblici istanziati per capitalizzare quelli che vengono fuori da questo percorso noi siamo nella fase B quindi abbiamo già fatto un pre-studio di fattibilità che ovviamente va affinato e abbiamo raccolto manifestazioni di interesse da soggetti privati per sostenere questa iniziativa e auspicabilmente ci auguriamo di poter essere una delle storie da poter raccontare alla fine di questo percorso di questo anno di questa misura della Commissione Europea quindi sostanzialmente il nostro obiettivo adesso è affiancare a quello che già facciamo una dotazione di capitali in qualunque forma essa sia cioè non necessariamente un fondo ma anche una SPA con un patrimonio da poter investire per sostenere anche finanziariamente le iniziative con le quali oggi lavoriamo noi ci troviamo casi in cui un progetto è molto interessante ma non abbiamo la possibilità di mettere sul piatto quei 20.000 euro che sono necessari per fargli fare il salto di scala e per fare in modo che quel salto di scala sia fatto in due mesi non in 24 mesi perché poi il tema è quello nel senso che se il progetto è valido sono sicuro che in qualche modo ce la farà però perdi 22 mesi di attività non è che li perdi ti devi arrabattare per cercare di capire da dove possono entrare le risorse che tipo di che strumenti di fundraising poter attivare eccetera eccetera invece così facendo predispone un ecosistema che è fertile per poter fare in modo che ai nastri di partenza un progetto se ha del potenziale possa essere facilitato ok per dare un po' di concretare un pochino questi concetti di impact finance cosa una pratica ad impatto sociale che c'entra con la finanza che vi viene in mente la prima oppure ribaltando la domanda qual è il primo caso che ha dimostrato come fosse possibile trovare un modello di business sostenibile nel settore sociale che poi è diventato un fenomeno globale esattamente si parte dalle ah si ok microcredito microcredito e microfinanza non è una cosa che si è inventato Junus è una cosa che esisteva dall'alba dei tempi nel senso che da sempre nel mondo dell'est asiatico esistevano delle pratiche che venivano definite di village capital cioè di mutuo e reciproco aiuto all'interno di una comunità ristretta che poteva essere quello di un villaggio quindi si condividevano reti relazioni e risorse per dare la possibilità a turno tra virgolette di poterci provare quindi nel momento di difficoltà che poteva essere o esigenze legate ad esempio dover gestire come dire dei periodi di crisi familiare un bambino che si ammala o un episodio o la mucca che muore non posso più erare il campo perché poi questi erano i problemi davvero concreti delle persone in quei posti del mondo c'era appunto un mutuo soccorso cioè della comunità che aiutava ovviamente questo non era una donazione era un fare temporaneamente nell'essere temporaneamente utile ad una persona che veniva percepita come parte della comunità in cambio poi ovviamente di un impegno sociale di quella persona a restituire quello che gli era stato dato restituire significa che se c'era una dazione monetaria questa doveva rientrare e poi soprattutto se c'era invece un aiuto in termini di tempo dedicato di competenze quello sarebbe rientrato cioè così come oggi la comunità ha aiutato te domani qualcun altro potrà avere bisogno della comunità quindi tu dovrà metterti a disposizione questa è una pratica che è sempre esistita in realtà esiste anche in Italia perché se pensiamo a come sono nate le banche all'inizio del 400 nasce una realtà che si chiama Monte Paschi di Siena che attualmente è una banca però in realtà inizialmente nasce come un meccanismo di mutuo soccorso persone che hanno bisogno appunto di poter finanziare delle proprie attività si costituiscono in una forma che tutto sommato non la definiremo molto diversa da un'attuale cooperativa e quindi c'è appunto una cooperativa di credito che decide di mobilitare delle risorse a beneficio della collettività con l'idea appunto che non è una donazione ma è un prestito Yunus cosa fa? Qual è il merito di Yunus? È quello di mutuare tutto ciò che c'è di buono da quella pratica che è sempre esistita e che è nelle corde di quelle persone e inventarsi quello che lui ha definito il modello del group lending cioè del prestito di gruppo fino a quel momento lui aveva lavorato e insegnato in alcune università americane il modello del credito era un modello una relazione uno a uno cioè c'era l'istituto di credito e c'era il beneficiario del credito lui analizza queste pratiche informali e capisce che è il meccanismo di controllo sociale che fa la differenza cioè il fatto che se io poi non restituisco alla società sia i soldi che ho ricevuto sia il tempo gli sforzi la dedizione che quando ne avevo bisogno ho ricevuto io sono escluso sono emarginato dalla società e sono in baglia degli eventi perché a quel punto se sono fuori da quel meccanismo di mutuo soccorso qualunque cosa qualunque evento anche minimo può fare la differenza tra il sto in piedi non sto in piedi che significa vivo sopravvivo o non sopravvivo più questo meccanismo viene utilizzato dagli unos e dalla Grameenbank come il prestito viene dato mai al singolo ma a un gruppo di persone un gruppo di persone che si riconosce come un gruppo e che quindi garantisce come gruppo quindi il venir meno la negligenza del singolo non è solo a scapito del singolo ma è il gruppo che ne risente e quindi questo replica il meccanismo di controllo sociale che era sempre esistito nelle pratiche che informalmente si erano sviluppate in quel territorio o in quella parte di mondo quindi quando si parla di microcredito subito viene in mente il professor Yunus in realtà sì cioè sì e no quella pratica è sempre esistita lui il suo grande merito è di aver formalizzato questa cosa in una pratica replicabile in un modello di business che funziona e che ha avuto contemporaneamente impatto veramente su una larghissima parte della popolazione del Bangladesh all'inizio perché lui ha cominciato ad H ma poi ovviamente è stata estesa a tutte le aree del sud-est asiatico e generando poi la prima tipologia di investimento ad impatto perché poi le istituzioni di microfinanza che sono nate sul territorio in Bangladesh in India in tutti i paesi limitrofi hanno ricevuto finanziamento da investitori dei paesi cosiddetti sviluppati cioè uno dei più grandi primissimi fondi che finanziava solo istituzioni di microfinanza era un fondo svizzero e questo perché perché con questo meccanismo si è trovata la ricetta magica cioè il meccanismo di group lending garantiva dei tassi di rimborso che erano del 98% quando invece le banche del mondo sviluppato con tutte le garanzie con tutti i meccanismi finanziari complessi reutilizzazione eccetera eccetera aveva dei tassi di insolvenza che comunque bene che andavano non erano mai al di sotto del 6% che significa che quindi nonostante stai prestando a persone che erano unbankable cioè il sistema finanziario non aveva traccia di queste persone non esistevano per il sistema finanziario tradizionale perché banalmente se ti arriva un contadino scalso che non ha una casa non ha una mucca ma viene a chiederti un prestito per una mucca perché gli serve per dare da mangiare ai figli e produrre reddito evidentemente se il tuo modello di gestione è quello di una banca tradizionale difficile dargli credito non avendo né garanzie né nulla che ti faccia presupporre che lui te lo possa restituire ma il concetto è tu mi chiedi il credito non perché devi sciallacquare tra virgolette mi chiedi il credito per finanziare un'attività che produrrà il reddito necessario a non solo ripagare gli interessi perché poi è un credito che ha interessi e i tassi interessi sono anche molto alti questo ha generato poi tutta una polemica anche culturale sul fatto che in realtà non è credito maestro zinaggio però intanto tu hai dato una possibilità delle persone che non l'avrebbero mai avuta principalmente a donne per un meccanismo culturale e sociale nel senso che in quella parte del mondo si vede ma in realtà sono uomo e lo dico c'è molta più responsabilità nella gestione delle risorse rispetto a in quel contesto culturale in maniera smarcata si vedeva cioè che quando veniva concesso il credito alla donna le risorse erano utilizzate per il nucleo familiare e sostanzialmente per garantire un futuro miglioro ai figli quindi in primis venivano utilizzati per comprare ad esempio degli attrezzi che servissero per avviare un'attività imprenditoriale che poteva essere fabbricare dei manufatti tessuti piuttosto che altre attività molto piccole che loro già facevano ma le facevano in regime di schiavitù cioè chi aveva il controllo dei mezzi di produzione quindi il piccolo telaio piuttosto che tutto quello che era necessario per fare quei piccoli manufatti di fatto aveva a gratis il lavoro della donna in cambio di una percentuale irrisoria dei ricavati delle vendite dei manufatti e questo era un meccanismo che si abitava perché diciamo che quella percentuale veniva settata in modo tale che fosse assolutamente insufficiente per far pensare alla singola di mettersi tra virgolette improprio cioè era appena appena necessario per la sussistenza del suo nucleo familiare e quindi si aggira questo meccanismo questo è un altro dei grandissimi impatti sociali che ha avuto il fatto di poter affrancare dalla povertà con l'autoimprenditorialità milioni di persone e quindi questo ci porta però appunto al fatto che da questo momento in poi si è cominciato a pensare ok anche è possibile trovare delle soluzioni creative a dei problemi a delle piaghe sociali perché lì avevi marginazione avevi povertà bambini che morivano tasso di anfabetismo alle stelle schiavitù schiavitù praticamente all'alba del 2000 trovando un modello che funzioni e che anzi sia profittevole perché se un fondo di investimento adesso è svizzero però insomma in generale un fondo di investimento occidentale finanzia esclusivamente organizzazioni che sul territorio fanno quel tipo di attività significa che da quel tipo di attività ne ricava un rendimento un rendimento monetario dei profitti e quindi la trova un investimento interessante rischioso valutato come rischioso anche se poi veniva dimostrato che coi tassi di insolvenza tutto sommato era come finanziare la Goldman Sachs anzi poi la storia ha dato ragione ma comunque profittevole quindi si è trovato per la prima volta un modello che avesse come obiettivo tutt'altro che quello di fare profitti perché poi tra l'altro la governance di Grammy anche il modello quando si parla di modello di gestione di un'azienda la Grammy nella banca dei poveri in due eccezioni uno perché finanzia quelli che il sistema tradizionale non finanzierebbe mai due perché gli stessi finanziati sono di fatto noi li chiameremo soci della banca stessa cioè sono loro che se esistesse un'assemblea dei soci in realtà esiste partecipano a prendere decisioni su organi di gestione e indirizzo strategico dell'azienda stessa quindi si è trovato per la prima volta un modello di social business che funzionava e funzionava tenendo insieme le due cose di cui abbiamo parlato questa mattina quando abbiamo definito il social business quindi il merito di Yunus è stato quello di a parte quello sociale che ne abbiamo già parlato quello di aver trovato per la prima volta quella che si chiama la ricetta magica cioè il modo aver dimostrato al mondo che lavorare con i reietti della società quelli che erano considerati i reietti della società e lavorare per risolvere problemi sociali non necessariamente è fare filantropia ma può anche significare fare business e quindi questo ha dato il via ad una serie di sperimentazioni a ricerca di nuovi modelli che potessero replicare quel caso di successo ovviamente risolvendo tutti gli altri problemi che Yunus da solo non poteva risolvere quindi come dire il novero dei problemi di natura sociale che affliggono alla società contemporanea oramai da decenni sono molteplici e tra l'altro ci sono delle opportunità legate ad alcuni trend macro trend globali che ci fanno pensare che c'è un grandissimo mercato basti pensare alle dinamiche demografiche cioè noi abbiamo una popolazione mondiale che sta crescendo a dei ritmi inverosimili creando due poli da un lato paesi come il nostro in cui la popolazione sta invecchiando terribilmente e quindi è tutto il tema del welfare di trovare modelli innovativi per rispondere a quei bisogni di assistenza sociale che lo Stato da solo non sarà mai più in grado di garantire dall'altro invece ha dei paesi in via di sviluppo con delle popolazioni giovanissime che non hanno futuro non sono come dire inserite all'interno di un sistema tradizionale in cui un establishment difende i modelli precostituiti e che questo cosa genera politicamente la primavera araba banalmente socio-economicamente il fatto che non sia data la possibilità di accedere a determinati determinati posizioni da un punto di vista lavorativo sociale quindi c'è sempre più l'esigenza di inventarsi qualcosa dal basso per poter stare in piedi per poter ottemperare a quelle che sono le esigenze quotidiane e chi lo fa lo fa lo fanno questi appunto imprenditori sociali che trovano dei modi diversi per fare in modo che ci possa essere un freno endogeno al fenomeno di crescita spropositata dalla popolazione mondiale cioè in alcune parti del mondo per dire in maniera molto franca il fatto che una famiglia sia composta da otto persone deriva sostanzialmente dal fatto che più braccia ci sono più campi e più attività lavorativa è possibile fare e quindi più è probabile avere un equilibrio del nucleo familiare l'imprenditore sociale invece cosa fa fa in modo che ci si possa inventare dei modi per aumentare la produttività del singolo senza aver bisogno quindi di avere una famiglia un nucleo familiare di 10 persone per poter avere quello stesso livello di produttività e quindi di reddito esempi concreti c'è un'azienda africana un'impresa sociale che si chiama kickstart vi viene in mente qualcosa? sì io quando poi mi è venuto in mente io mi è venuto in mente solo recentemente quando mi ci sono rimbattuto per una ricerca che ho fatto di kickstart che il nome è molto significativo comunque kickstart cosa fa? kickstart ha come mission quello di sviluppare progettare e vendere ad un prezzo che sia accessibile degli strumenti di produzione agricola che abbiano tendenzialmente tre caratteristiche basso costo utilizzabili anche da personale non tecnico cioè dai contadini che utilizzano solo e esclusivamente il loro olio di gomito per attività di produzione agricola e che siano utilizzabili in contesti in cui non immaginarti di avere le strade non immaginarti di poter avere se succede qualcosa un tecnico che ti viene a fare assistenza non immaginarti che puoi trovare facilmente le parti meccaniche nel caso in cui si guasta il macchinario quindi ad esempio si è inventato una pompa pedali che ha chiamato money maker che era anche il nome era molto ambizioso cioè la possibilità che questo strumento consenta a te contadino che vivi in condizioni di assoluta povertà di poter pensare di attivare un'attività agricola profittevole che ti consenta di affrancarti dalla povertà e quindi con questa money maker cosa facevano? aumentava di 10-15 volte la produttività agricola e quindi consentiva ad un nucleo familiare ristretto di 3 persone di avviare una piccola azienda agricola che riuscisse da sola a stare in piedi e questo ci porta ad un altro tema al fatto che i modelli tradizionali di aiuto allo sviluppo del terzo mondo diciamo comunque dei paesi che stanno ancora cercando appunto roviare verso lo sviluppo debba essere ribaltato cioè noi veniamo da 20 anni ma anche di più di aiuti verso questi paesi che diciamo sono andati più verso la parte alta cioè le istituzioni che verso davvero la popolazione e questo modello ha fallito money maker ribalta il concetto cioè io do degli strumenti alla popolazione e ci sarà un indotto economico necessariamente i risultati gli hanno ragione nel solo 2007 con l'acquisto di money maker si è dato lavoro a qualcosa come vado a memoria 50.000 persone 50.000 persone hanno avuto lavoro con un contributo nel solo 2007 al PIL del Kenya che sfiorava l'1% cioè questo sono dei numeri pazzeschi cioè l'1% del PIL di un paese legato alla vendita a prezzo che fosse accessibile a quella fascia di popolazione di un oggetto che consentisse aumentare la produttività agricola sono dei numeri che fanno davvero clamore e che quindi poi indirettamente aiutano anche chi quel prodotto non lo possa avere perché con la fiscalità sostanzialmente si realizza quel modello di equità sociale per il quale la fiscalità era stata pensata cioè il fatto si produce del reddito quel reddito genera delle tasse e quelle tasse devono essere utilizzate soprattutto per le fasce meno ambienti quelle che ad esempio non si sono neanche potute permettere di comprare money maker la sperimentazione in ambito dell'impact ovvero di trovare delle forme per riuscire a sostenere anche finanziariamente delle forme assolutamente innovative di interventi con lo scopo sociale è andata avanti e recentemente ha trovato uno degli esempi più complicati più discussi però sicuramente più innovativi che personalmente mi è capitato di vedere negli ultimi anni stiamo parlando di? e qual è la passato bond social impact bond social impact bond social impact bond la donna dei numeri un bond cos'è un bond? no però il controllo di gestione non c'entra con non necessariamente ok il bond è sostanzialmente per finanziare un'organizzazione tu hai due forme o ti fai dare capitale sociale cioè costituisci un'impresa ti viene dato del capitale sociale che utilizzi per sostenere gli investimenti di un'azienda vabbè lasciamolo lì se non è capitale sociale può essere debito il debito o è quello bancario o tramite l'emissione di un titolo io ho bisogno di 20 dollari per finanziare la mia attività e metto a lei un titolo che sostanzialmente ti dice ok io sono un debitore di 20 dollari a che condizioni? al fatto che io ogni anno ti do l'1% di quei 20 e tra 5 anni ti restitisco anche i 20 in tutto e per tutto una formula di prestito molto simile a quello che ti fa un mutuo bancario però non con una banca ma con un soggetto un investitore privato componendo un'architettura molto più complicata che tecnicamente non è un bond ma siccome c'è questo meccanismo di restituzione finale è stato chiamato bond è stata messa in piedi un'architettura per la quale si è sviluppata una partnership multi stakeholder che permetteva sostanzialmente la faccio molto breve a degli investitori privati di finanziare con i propri soldi la realizzazione di un intervento che aveva come scopo quello diciamo di riabilitare una determinata categoria di persone erano dei detenuti sostanzialmente cioè l'idea era quella di trovare un modo per far sì che le persone che scontrano delle pene detentive brevi 12 mesi non di più in questo percorso di 12 mesi di detenzione non vivano come dire un ambiente che li spinge ulteriormente di più a delinquere perché tendenzialmente quello che emergeva dall'intervista era a cosa ti è servito questi 12 mesi ad essere sempre più convinto della mia scelta sostanzialmente perché una volta che esce è molto difficile che la società ti diano opportunità quindi cosa succedevano immaginarsi degli interventi formativi di riabilitazione di reinserimento sociale che durante quei 12 mesi desse alle persone una possibilità quindi delle competenze un nuovo modo di ragionare un nuovo modo di vedere i problemi e alla fine anche la possibilità di mettere a frutto e valorizzare le competenze sviluppate che potevano anche essere molto manuali molto pratiche quindi che ne so la possibilità di fare il carpintiere cioè ti forma a fare il carpintiere 12 mesi imparare a fare il carpintiere quando esci hai un mestiere e anche una rete di organizzazioni che è disposta a darti una chance quindi darti un lavoro quindi l'obiettivo era quello sostanzialmente di individuare sul territorio delle organizzazioni che lavorassero già all'interno delle carceri che avessero già sperimentato dei modelli di intervento che si fossero rivelate efficaci perché questo è fondamentale adesso vedremo il perché e dare loro la possibilità di poter lavorare senza impazzire a dover trovare i fondi quindi anticipare i fondi necessari per finanziare quell'intervento quindi per pagare lo staff per sostenere i costi vivi e per fare tutto quel tipo di attività che hanno una richiesta di finanza e che quindi è necessario anteporre all'erogazione del servizio a valenza sociale quindi sostanzialmente tu hai il successo dove sta sul fatto che questo intervento se ha successo ed è per questo che deve essere già testato tra virgolette cioè deve essere un'organizzazione che non si improvvisa che lavora già lì dentro che sa già quali sono le conseguenze del suo agire se funziona la pubblica amministrazione ha un risparmio in termini di costo secco sulla spesa pubblica cioè queste persone qua invece quando una volta uscite è scontata la pena invece di tornare a delinquere e poi rifare il giro e ritornare in carcere hanno un inserimento lavorativo il risparmio dove sta? che tenere una persona in carcere per un giorno costa mediamente 15-16 sterline fate il conto su una settimana fate il conto su 4 settimane al mese fate il conto su 12 mesi fate il conto su 10.000 persone che tendenzialmente sono era il bacino di quella con te lì sostanzialmente cioè sono parecchi soldi quindi l'idea è se questo intervento è efficace noi abbiamo da un lato delle persone che riqualifichiamo socialmente che diamo una chance non saranno più dei reglietti della società ma potranno mettere il loro talento la loro aspirazione la loro passione a disposizione del prossimo dall'altro abbiamo un risparmio netto per la collettività per la pubblica amministrazione e questo risparmio a cosa serve? a garantire la restituzione dei soldi che i privati hanno inizialmente investito con anche un rendimento e voi dite ma perché tutta sta baracca non poteva essere l'amministrazione che direttamente finanziava e no perché quelli sono dei programmi questi sono programmi innovativi e sperimentali cioè non è garantito il risultato è un'attività rischiosa cioè tu fai l'intervento lavori benissimo dentro le carceri però è stato stimato che per avere un risparmio abbastanza grande da poter remunerare fare stare in piedi dal punto di vista finanziario tutta la costruzione si doveva abbattere il tasso di recidiva cioè delle persone che dopo i 12 mesi rientravano in galera del 7-7,5% ex ante chi ti può garantire che l'intervento avrà almeno il 7,5% di abbattimento di tasso di recidiva nessuno e quindi questo che problema genera? genera un problema che lo Stato non può permettersi di utilizzare i soldi dei contribuenti per finanziare un intervento della cui efficacia non vi è alcun prova banalmente se lo facesse chi appone la firma sotto quell'autorizzazione è perseguibile dalla Corte dei Conti personalmente quindi lo Stato non può per alcuni di questi vincoli finanziare questi tipi di interventi e soprattutto questo cosa genera? genera un grande problema mi ricordo qualcuno di voi a studio pedagogia comunque si occupa di questo tema il fatto che l'intervento ex post è un intervento a limitare i danni quello che è veramente formativo riabilitativo e ha la capacità di amplificare l'impatto di un intervento è l'intervento preventivo e quindi questo è il caso il caso in cui io non lavoro una volta che lui è uscito per provare ad avere un'opportunità io lavoro mentre lui sta scontando la pena per formarlo e fare un intervento grazie a tutti 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 grazie a tutti